Salve a tutti, eccoci per caricare il programma gratuito che non ha bisogno di nessuna registrazione Audacity. È un programma editing audio, cioè trasforma gli audio come gli mp3 in tanti modi. Per caricarlo andiamo nel motore di ricerca e scriviamo audacityteam.org e andiamo nel download. Questo è il download ufficiale del sito, è più affidabile. Vado a cliccarlo e scelgo il sistema operativo. Io sceglierò Audacity for MacOS. Come vedete in pochi secondi carica il programma, lo inserirò nelle applicazioni e lancerò il programma, cliccandolo due volte. Metterò nelle applicazioni l'icona e aprirà l'interfaccia. Come vedete alla sinistra ho un semplice registratore, pause, play, stop, indietro, avanti e la registrazione. Qui a sinistra ho il microfono, posso usare un microfono esterno, una scheda oppure il microfono del computer. Qui c'è la registrazione, l'altoparlante, il volume di registrazione, il volume di riproduzione e tante altre parti. Per adesso ci fermiamo qui. Qui c'è la frequenza del progetto, lasciamola pure a 4400. Non mi resta che salutarvi e salve a tutti.